Vino 75 ci ha consigliato di venire a trovare una loro vecchia conoscenza e siamo un'azienda agricola a Santo Stefano, ma com'è che li avete conosciuti? Vino 75 li abbiamo conosciuti al primo Vinitaly, quello di quattro anni fa che è stato il punto di partenza di tutta la nostra struttura, di tutta la nostra rete vendita. Vino 75 per noi era un modo di vendere alternativo, totalmente moderno, online e da lì è nata questa collaborazione che funziona benissimo ancora oggi e noi siamo felicissimi di collaborare con loro. E oggi cosa possiamo consigliare di assaggiare? Al Vinitaly abbiamo portato tutta la nostra gamma di prodotti che va dal brut al saten al millesimato brut alla riserva, però in particolare noi oggi Vinitaly 2019 presentiamo il nostro dosaggio zero che è una vendemmia 2016, 90% uve chardonnay e 10% di pino nero ed è il prodotto che nei primi due giorni ha riscontrato il maggior successo. Quanti mesi fa? Questo fa da disciplinare i suoi 24 mesi sui lieviti, è un prodotto molto minerale, molto asciutto, abbinabile a tutto pasto e siamo veramente contenti di questo prodotto e credo che per il prossimo futuro sia proprio il prodotto che andrà per la maggiore. Per chi volesse assaggiarlo andate su vinosnata5.com